Già dall'allerta arancione bisogna preoccuparsi, poi era diventata rossa. Noi abbiamo fatto qualcosa in più come prefettura, abbiamo anche avvisato i sindaci, ha aperto subito il CCS in prefettura, ha invitato i comuni ad aprire i cocchi centri operativi comunali. Quindi l'allerta, c'è un sistema rodato, quando viene diramato i comuni devono avvisare la popolazione. Poi questo è stato un evento di carattere eccezionale, sappiamo tutta la portata che hanno avuto 15 fiumi contemporanei oltre la soglia massima. La prima preoccupazione è salvare le vite umane, quindi fortunatamente così è stato. Noi dalla sera precedente, in ogni caso, abbiamo attraverso i nostri strumenti di comunicazione digitale, pubblici, che hanno raggiunto migliaia e migliaia di cittadini, comunicato con gran forza a tutta la comunità che eravamo dentro una situazione critica di non andare alle cantine, di trasferirsi ai piani alti, di non uscire di casa, di non andare vicino ai fiumi, proprio perché c'era un'emergenza in atto molto forte.